Siamo arrivando a casa in una forma di sicurezza e forse anche per realizzare che qualcuno possa entrare durante la notte e magari vediamo il episodio di scatallaggio in questo cortile che come vedete continua a piovere e sbagliare Perfetto finché si vede le campagne della cortile che condiv Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.